Valorizzare dunque il nostro territorio e soprattutto il made in Naples ponendo l'accento soprattutto sulla tematica ambientale. E' questa l'idea al centro della sfilata di moda Demetra che si terrà domani presso il Real Museo Mineralogico di Napoli. Un progetto che tra l'altro è supportato anche dalle istituzioni, è preciso nella figura di Alessandra Clemente, assessore alle politiche giovanili del Comune di Napoli, alla quale diamo il buongiorno. Ben trovata, assessore. Buongiorno, ben trovata. Insieme a lei naturalmente la giovanissima ideatrice di questo progetto, una stilista emergente, giovanissima, Fabrizia Cacace. Ben trovata. Dunque, assessore, se lei è d'accordo io direi di partire proprio da questa giovanissima ragazza, da Fabrizia. Ecco, l'idea progettata da te, una sfilata di moda che va ben oltre il concetto della sfilata perché ho detto che pone l'accento sulla tematica molto cara, notiamo ultimamente ai giovani, la tematica ambientale. Da dove si parte? Perché decidi di portare avanti questa idea nuova, una bella sfida? Sì, sicuramente. L'evento prende il nome di Demetra in quanto è la dea della terra, la dea della natura. Da sempre mi ispiro per la realizzazione delle mie collezioni alla natura e alla realtà circostante. Infatti la prima collezione è ispirata all'oceano, la seconda al mondo dei minerali, quindi non a caso è scelta appunto la location del Real Museo Mineralogico. Per quanto riguarda quindi la questione ambientale non verrà interpretata solamente dal punto di vista dell'ecosostenibilità, menzì soprattutto analizzando anche quali sono le forme di vita, ad esempio nell'oceano, quali coralli che stanno scomparendo proprio a causa dell'inquinamento. E i coralli sono infatti riprodotti sui capi attraverso varie manipolazioni dei tessuti, del denim, della pelle, quindi interpretati in chiave innovativa, nuova, possiamo dire. Beh, già l'idea è ben chiare. Direi proprio di sì. Assessore, questa è peraltro l'ennesima dimostrazione del rilancio partenopeo reso intanto attraverso il buon seme dei ragazzi, vediamo questa che intanto è bellissima, sorridente, quindi si fa piacere. E poi attraverso le varie sfumate forme d'arte, qua parliamo di moda, ma parliamo di moda che si aggiunge alla natura, quindi è un qualcosa anche di avveniristico se vogliamo. Fabrizia è una donna giovane di 23 anni che si è formata in questa città e che noi abbiamo il dovere come istituzioni di valorizzare. Quante volte sono altri contesti che si accorgono di un talento? Io sento invece questo dovere, cioè se non crede in te la città nella quale sei nato, la città nella quale sei nata, chi dovrebbe farlo? Questo fa l'assessorato ai giovani e lo fa però per progetti altamente meritori. E qui quindi non soltanto abbiamo un settore, quello della moda, del fashion, della creatività, dove Napoli è sempre stata capitale, indiscussa, che ha sfornato sempre tra le pagine più alte dell'artigianato mondiale. Ma poi abbiamo una grande sfida culturale e quindi se a Milano le fashion week sono all'insegna magari solo del consumismo o delle pubblicità, o delle grandi firme magari, o delle grandi firme, mi piace poter dire che a Napoli questo sabato c'è un weekend fashion week che è dedicato alla cultura, perché questa è la nostra identità, e faccio una domanda. Quanti di noi conoscono, hanno frequentato il museo reale mineralogico della città di Napoli? È in via Mezzocannone ed è quindi l'occasione, questa aspirata e questo talento giovane della città, con le istituzioni, l'Università Federico II e il Comune di Napoli, per mettere al centro il valore della cultura e il nostro quindi tesoro. All'insegna della cultura, dice bene, condivido il suo fastidiero, assessore, in un periodo storico, tra l'altro lo ricordiamo spesso anche nella nostra trasmissione, in un periodo storico in cui i giovani sono purtroppo costretti ad andare via, a trovare la loro professionalità altrove, e c'è invece chi con grande coraggio, ma supportato però dalle istituzioni, decide di rimanere rendendo ancora una volta grande Napoli, rendendola creativa, rendendola un unicum nel panorama anche internazionale, se vogliamo. Politicamente io mi batterò sempre, affinché non ci siano più nei prossimi dieci anni le pagine di emigrazione giovanile, talentuosa, dal sud e da Napoli, verso altre città e verso il nord. È una battaglia difficile, essere da sola lo rende ancora più difficile, ma essere insieme ci possiamo riuscire. Sono grata a voi che come redazione create sempre degli spazi democratici per raccontare queste cose, ed è importante farlo. E c'è quindi una fiducia di garanzia, una garanzia tesa alla valorizzazione dei giovani, farlo però non con le parole, ma con i fatti. Esatto. Allora, concretamente noi siamo qui a supporto di Fabrizia e di tante altre ragazze e ragazzi che magari oggi sono un po' sfiduciati e che possono vedere in lei anche un esempio positivo di una ragazza che ce la vuole fare, che lotterà e che avrà sicuramente successo. Ecco, io resterei sul discorso della concretezza, Fabrizia. Tanto che cosa ti ha ispirato a lanciare questo progetto che si inserisce bene nel mondo della natura, no? Abbiamo detto prima, già è il secondo, cioè sei sempre stata ispirata dalla natura. Che cosa senti tu, peraltro, quando crei? Perché è importante anche trasferire al pubblico quelle che sono le sensazioni, le emozioni di un qualcosa di artigianale. Allora, da sempre ciò che mi circonda è una grande ispirazione per me. Credo che tutto il mondo circostante possa essere ispirazione, può essere ispirazione un film, una canzone. Io da sempre trovo ispirazione, ho questo legame, questo contatto con la natura, quindi cercando di osservare elementi naturali come possono essere i coralli, le alghe oppure i geodi, nel caso della collezione di minerali, cercando poi di riprodurlo con l'ausilio di tessuti. Quindi, diciamo, io credo che ogni stilista abbia un proprio legame particolare con un aspetto della propria vita. E io da sempre ho questo amore per la natura. Noi parliamo di moda, in questo caso di ragazzi, lei è una giovane ragazza assessore, parliamo però anche di Made in Naples e quindi con il Made in Naples anche di quello che è il settore manifatturiero. Allora io le chiedo, quanta strada c'è ancora da fare? Perché Napoli in questo settore torni ad essere punto di riferimento, ecco, capitale anche della moda al pari, ecco, di Milano. Perché giusto e doveroso che anche a Napoli venga riconosciuto questo riconoscimento. C'è un lavoro enorme da fare. Io chiedo al governo infatti di impegnarsi perché una città come Napoli, per esempio la sottoscritta, vorrebbe poter avere molti più strumenti per poter sostenere. Fabrizia si carica tutti gli oneri economici della realizzazione di questo suo progetto. Invece avrebbe diritto, così come tante altre realtà artigianali, ad avere dei sostegni. Anche lento, lento. Non una tantum, il bando che poi forse se sei fortunato che il commercialista te lo sottopone, allora tu, ma dei piani, dei piani, triennali, quinquennali. Ora ci vuole coraggio, ci vuole coraggio. Coraggio di sapere che questa è una strada vincente. Non è un approccio di assistenza, è un approccio di grande anche lungimiranza imprenditoriale. E lo Stato può essere un grande imprenditore di successo, perché se investe su tutte le fabbrite che oggi noi non conosciamo e delle quali non conosciamo il volto, ma che esistono, allora noi possiamo con la cultura e con la creatività dare lavoro. Un lavoro che non è precario, ma che è in grado poi di dare altro lavoro agli altri. Essere oggi un assessorato impegnato su questo è sicuramente difficile, ma è necessario. E quindi chiedo che ci siano, da questo punto di vista, dei piani di sviluppo all'artigianato, giovane e all'imprenditorialità che siano un po' più lunghi e concreti di un bando, una tantum, proprio perché abbiamo tantissimo lavoro da fare con strumenti economici che, ecco, non sono assistenza, ma se tu dai 5, quel 5 diventa 50 mila. Perché è un investimento che produce altre opportunità importanti. Poi è un vero e proprio circolo, perché ecco, lo ricordiamo, l'ha ricordato anche lei, assessore, tutto avviene in termini di cultura, la cultura non viene in questo caso abbandonata. Quindi come sensibilizzare, lei diventa un punto di riferimento, come sensibilizzare anche gli altri giovani ad utilizzare tematiche sociali in questo caso. E poi far diventare i nostri luoghi culturali del sud, ecco, non dei luoghi nascosti che nessuno frequenta, ma aperti, palcoscenico, palcoscenico della contemporaneità, luoghi dove fare network, luoghi dove fare formazione. E quindi lo stiamo facendo da tempo, penso a cosa è diventato il Museo Archeologico Nazionale, a cosa è diventato il Museo di Capodimonte, ma ci sono ancora troppe chiese abbandonate, ci vogliono soldi per aprire quelle chiese, ci sono ancora troppi musei chiusi il sabato e la domenica, ci vogliono risorse economiche per tenere aperti. Io chiedo una spesa pubblica che faccia questo, mi interessa una spesa pubblica che faccia questo e siamo pieni di idee e di cose concrete. Voglio di fare soprattutto. Nel frattempo non ci lamentiamo, lo facciamo lo stesso, ma con delle risorse economiche certe potremo farlo meglio. Approfittiamo anche della sua presenza, Assessore, perché ieri è stata una data importante, una data storica, ecco, ci allontaniamo un attimino da questo argomento, però comunque restiamo sul concetto del fare, dell'essere sempre operativi per fare del bene alla comunità, per fare del bene al nostro territorio. Ieri una data importante, storica, lei era presente, l'abbattimento della Vila Verde di Scampia, lo abbiamo più volte detto, ecco, non è solamente l'abbattimento di un edificio, ma è l'abbattimento di un simbolo. Tanto stiamo vedendo le immagini che lo racconta. Ecco, che giornata è stata ieri? Ieri c'era una tensione e una forza emotiva che viene ancora alla pelle d'oca. Pensate, ognuno di noi, vedere comunque il luogo dove siamo cresciuti, magari per 40 anni, o abbiamo visto crescere i nostri figli e essere abbattuto. Una demolizione che però è un punto di costruzione e di rilancio. Oggi Scampia la stiamo pianificando con un anche impegno politico diverso, la politica che ascolta. C'è tutto un programma, la base. Delle nuove abitazioni dove queste persone già stanno vivendo, ed un progetto che vedrà l'abbattimento anche di quella che è stata una narrazione. Immaginate anche una fiction che costantemente racconta il luogo dove tu vidi e dove tu vivi come il luogo dove non c'è la speranza, dove non c'è la legalità, dove si spaccia e dove si spara. Questa è stata una storia criminale drammatica di 15 anni fa, dove la droga ha rovinato la vita delle persone in quel quartiere. Ma è di 15 anni fa. Oggi noi invece siamo donne e uomini del presente e a Scampia c'è bellezza, c'è resistenza, c'è cultura, ci sono lavoratori. Ed è per questo che c'è questo piano di rigenerazione urbana importante, dove una vela resterà anche recuperata in modo architettonico come luogo di bellezza e di creatività da poter visitare. Ma poi quel quartiere non sarà più una periferia come tante ce ne sono in tutta Italia, da nord a sud, ma sarà un centro, un centro di una città non più ghetto, ma di una città opportunità. Un modo per riempire questo voto è chissà se fra qualche anno potremmo ritrovarvi all'interno, la cultura, la creatività, la bellezza e chissà qualche edizione lunghissima di una nuova svelata di moda. Intanto ricordiamo che però... Demetra o chissà qualche altro nome. Dove insomma sorgeva la vela verde, adesso c'è tutto un progetto al di là della vela in sé che riguarda proprio il quartiere nella sua rinascita culturale ed economica. Assolutamente, diventerà rispetto alla città metropolitana di Napoli, Napoli, città metropolitana in 92 comuni della provincia, il centro della città. E quindi che possa essere questa forza di Demetra ciò che diventa ancora più forte in tutti i quartieri. Simbro di rinascita. Oggi Già Scampia è un luogo di grande creatività, cultura e forza ed è sicuramente però un luogo che ha vissuto e continua a vivere un pregiudizio e noi dobbiamo essere sempre contro i pregiudizi. Ieri De Magistris ha detto una frase bellissima Scampia tre, Gomorra zero. Ecco noi dobbiamo batterci contro i pregiudizi e dobbiamo difendere sempre secondo me il talento e il merito. E sostenere soprattutto i talenti. Sì, un primo passo è già stato fatto ieri quindi già a livello simbolico qualcosa è stato attuato. Ringraziamo allora l'assessore alle politiche giovanili del Comune di Napoli Alessandra Clemente per essere stata in nostra compagnia. Ringraziamo anche questo talento tutto partenopeo, Fabrizia Cacace, Silvista che si ispira alla natura, come racconterà questa prossima mostra. Grazie a voi. Scusate, grazie. Publicità.